ciao a tutti e bentornati sul canale mi è arrivato un pacchettino nel senso ho fatto un ordine e volevo farvi vedere che cosa ho comperato non pensavo che quest'ordine mi arrivasse nel giro di 24 forse 48 ore e sono stati molto appunto carini a spedirmelo subito e potermelo spedire il brand è questo qua e per chi mi segue su instagram ha già visto che mi è arrivato questo sacchettino e tra l'altro è arrivato l'ho aperto e profumava già stranissimo proprio profuma tantissimo il sacchetto ma dentro di profumi non ce ne sono allora ed è tanto che volevo provare questo brand l'ho sempre sentito parlare poi un brand di genova io sono molto legata a genova però non ho mai preso niente anche perché qua è difficile reperire questa marca questa marca di prodotti che possono essere cosmetici e prodotti per la skin care quindi make up e cosmetici scusate si trovano solo diciamo nelle farmacie e nella mia zona ci sono pochissime farmacie che vendono questi prodotti soprattutto in questo periodo che non mi posso spostare da comune a comune non potevo reperirli in farmacia quindi ho fatto direttamente un ordine sul loro sito tra l'altro mi hanno detto che alcuni prodotti erano già terminati e che sarebbero arrivati successivamente adesso vi vi faccio vedere che cosa ho preso perché anche sinceramente non ricordo molto che cosa ho comprato allora i prodotti sono 4 qua ho la ricevuta ok iniziamo con questa questa è la crema viso anti age sos emergenza rugherosa questa è la crema viso siccome sto terminando le mie creme viso ne ho ancora una e mezza ho pensato guardando un attimino il sito vedendo un attimino di prendere questa crema che è rosa nel senso che rosa perché ci sono altre quattro no in questa sono quattro creme che sono di colore diverso c'è quella blu verde e non mi ricordo l'altra questa qua è una crema quindi funzione rigenerante lenitiva tipo di pelle delicata e sensibile quindi già volevo dire che i prodotti lab care sono prodotti abbastanza naturali diciamo così molto con prodotti quindi non artefatti ecco e niente ho pensato di prendere questa appunto perché la mia pelle non ha particolari insomma esigenze però ecco questa è la crema che sinceramente ecco questo è il barattolino la crema come vedete è rosa io non vediamo se si vede no è chiusa quindi non voglio adesso di aprirla però so che è una crema molto idratante nello stesso tempo sembra che sia se non sbaglio non dico gel però ricorda un po' quella della clinique la come consistenza ecco come come si appunto come consistenza e niente ero curiosa di provarla anche perché adesso magari si va verso la stagione più calda e le creme forse un pochino un po' pesanti ho paura che mi diano fastidio questa so che almeno so che l'interruzione ma ho ricevuto una telefonata e quindi dicevo che magari per la stagione che viene un po' più calda come stavo dicendo magari può essermi utile e questo vedete più o meno ecco la consistenza questa crema viso l'ho pagata a 12 euro ok ho preso il liffer lip filler scusate non so manco leggere filler lip concentratissimo extra volume rimpolpante idratante protettivo e anti age ecco questo che adesso vi faccio vedere questo è il concentratissimo per le labbra allora lab care presenta uno speciale trattamento anti age per labbra con un effetto volume rimpolpante grazie alla formale formulazione ricchissima di principi attivi vegetali allora modalità d'uso prima del colore vabbè applicare questo è un idratante anti age eccolo qua e questo è piccolissimo rimpolpante però io sono sempre alla ricerca di prodotti idratanti per le labbra e anche ovviamente in questo caso anti age questo si può mettere prima del rossetto oppure così anche come balsamo labbra rimpolpante senza parabeni aggiuntivi per un extra risultato si consiglia il prodotto due tre volte al giorno per la prima settimana quindi anche diciamo un forse come tratta come trattamento tra l'altro vedete che carina la confezione e questo l'ho pagato 12 euro sono solamente 10 ml di prodotto ma dovrebbe essere concentratissimo e mi ispirava questo poi vediamo cosa ho preso allora che non mi ricordo allora al contorno occhi anti age 3 azioni palpebe rimodella occhiai previene borse al team ecco qua questa è la confezione pagata anche questa a 12 euro allora c'è scritto adesso vi faccio vedere la formula potenziata 1 palpebe rimodella le palpebe superiore affaticate con un'azione effetto lifting recuperando la compattezza della fibra di supporto del tessuto occhiale previene le occhiaie migliorando il micro circolo rendendo lo sguardo più luminoso e riposato tre borse a tema la formazione delle borse migliorando il drenaggio del liquido della zona perioculare riduce il gonfiore e ridefinito il contorno occhi anche questo pagato 12 euro e questo scusate eccolo qua questo vedete sono questi sono quanti ml di prodotto vediamo si sono 15 ml di prodotto anche questo sono curiosa di provarlo per tutto quindi vedete è un 3 in 1 qui c'è scritto modalità d'uso stendere una piccola quantità di prodotto sia sulla palpebra superiore sia sulla palpebra inferiore con la punta della lunare far assorbire il contorno occhi in modo delicato picchiettando dall'angolo interno dell'occhio su tutta l'arcata sopraccigliare dall'angolo interno dell'occhio passando il sull'osso orbitale verso l'esterno attenuando così rughe occhiali e morse anche questo senza profumo senza parabeni petrolati quindi anche questo sono curiosissima di provare adesso finito sto finendo un contorno occhi di cui poi quando è finito ve ne parlerò e quindi anche questo mi serviva lo ho deciso il mio prodotto ho preso SOS emergente imperfezioni pelli con macchie e discromie allora c'è scritto una crema fresca dalla texture leggera che minimizza le imperfezioni e le discromie della pelle e del viso in modo semplice ed efficace la confezione è questa qua la crema è questa vediamo che adesso ve la faccio vedere c'è scritto il colore di questa il colore di questa speciale crema correttiva assicura alla pelle del viso un colorito uniforme minimizzando e attenuando le cannelle anti antistetiche di scromie dovute alle piccole macchie scure della pigmentazione ottima certo ottima base per il trucco migliore addensività alla durata del make up inoltre la sua speciale formulazione mantiene la pelle del viso idratata e fresca per tutta la giornata contiene estratto di liquirizia mirtillo rosa canina senza profumo dermatologicamente testata e anche questa sono proprio curiosa di provarla ecco questa è la confezione sono anche questi sono 30 ml di prodotti anche questa è stata pagata 12 euro questa è la forse la cosa che mi incuriosiva di più di tutti e tre tutti e quattro i prodotti che ho comperato e la proverò subito vabbè diciamo che adesso non si esce per cui anche se non la uso perché magari avere un colorito un po più uniforme non mi interessa quindi stando a casa ma quando si potrà uscire sarà la prima cosa che vorrà trovare e poi quindi questi erano i prodotti che ho acquistato pagati tutti 12 euro li hanno messo dentro due campioncini che adesso vi faccio vedere e sono allora concentratissima crema viso anti age antiossidante idratazione intensa per pelle normale e secche ecco questo è il campioncino sinceramente non proverò contiene acido olio aluronico senza anche queste parabeni vabbè solide cose e poi questa è anche questa concentratissime crema viso anti age concentrata liftante rigenerante pelle stressate e atoniche ecco questi sono i due campioncini che loro mi hanno inserito questa qua contiene anche questo acido olio aluronico oggi non parlo però vabbè a basso peso ed alto peso molecolale molto ma non riesco a parlare vabbè poi c'è dentro in questa qua rosa olio di canapa olio di avocado estratti di eucalipto estratti sono tutti prodotti comunque naturali ma non solo in queste creme ma in tutti i prodotti di healthcare sono curiosa di provarle questo brand che conosco da sempre e poi andando appunto a genova l'ho sempre sentito parlare ce ne sono tanti brand genovesi che mi hanno incuriosito in questi anni della mia permanenza quindi in liguria uno di questi è natura equa che sto testando sto provando e mi sto trovando benissimo poi c'è elan che vabbè famosissima anche questo ho preso pochi prodotti ma mi incuriosisce poi c'è lab care e poi mi sembra che ce ne sia qua come altro io vi saluto è stato un video breve anche questo vi farò sapere come mi trovo è l'unica cosa che non sono riuscita a trovare che avevo visto che stavo utilizzando in un suo video elisabetta che saluto ciao Eli e il contorno occhi appunto dell'app care mi ha detto che il fondotinta e il contorno quindi il make up sul sito era andato tutto esaurito che ritorneranno i rifornimenti vabbè quello ci penseremo domani quindi come vi dicevo vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti grazie